Ciao, mi chiamo Mirabella Volpescu, lavoro in Alfio Bardola da quasi due anni. Mi piace lavorare con tutto il team di Alfio Bardola perché prima di tutto ho cambiato la mia vita, ho cambiato il mio modo di pensare, posso dire che ho raggiunto la libertà finanziaria. Il benefit che mi offre questa azienda è avere più tempo libero per me stesso e nel stesso momento arrivare a guadagnare di più. C'è anche la possibilità di frequentare questi corsi, imparare a gestire il mio denaro, quindi la cosa fondamentale che io ho raggiunto in questa azienda è non dover domandarmi se ho abbastanza soldi per poter fare la vacanza desiderata.